Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono qua con il nostro Paolo nel suo bellissimo giardino della casa al lago e adesso se mi seguite ve lo farò visitare tutto. Nella prossima parte del video vi farò visitare gli interni della casa. Oggi vedremo il giardino quindi possiamo partire, seguitemi! Andiamo a vedere il laghetto dei pesci rossi, venite con noi! Grazie a tutti! Guardate che popolazione di pesci! Non li abbiamo mai contati ma mi sembrano tantissimi! Ed eccoci qua nella zona del barbecue dove fatti facciamo le nostre grigliate estive in occasione delle varie festività familiari. Tutto quello che vedete è stato fatto da Paolo. abbiamo la dispensa, chiamiamola così, con le decorazioni, il barbecue con lo stemma, anche le decorazioni sugli sportelli sono state fatte da Paolo. Abbiamo qua una bellissima casina in legno e un simpatico gnomo che ci fa compagnia quando facciamo le nostre scorpacciate, ovviamente grigliate di carne ma anche di verdure per chi non mangia la carne. Bene, seguitemi che proseguiamo il giro! Guardate che bello questo melograno, è una meraviglia! E alle mie spalle abbiamo il tavolone sotto un bellissimo gazebo dove consumiamo i nostri pranzi e cene estive, dove mangiamo appunto carne e verdure fatte nel barbecue che abbiamo visto prima. e anche questo è stato fatto apposta per per le nostre cene familiari. Ed eccoci qua nella zona panchina e guardate che vista meravigliosa che si gode da qua. Siamo arrivati all'ingresso della casa, questa è la porta finestra d'ingresso. Il video per oggi finisce qui, la prossima volta visiteremo l'interno della casa. Io vi saluto, vi ricordo che se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi al mio canale, lasciare un bel pollice in su e se volete anche un commento. Ci vediamo alla prossima con l'interno della casa. Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.